Fattiamo che le aziende devono essere flessibili e adattarsi facilmente al cambiamento. Formazione e cambiamento devono essere interconnessi. La tecnologia è alla base di questa rapida trasformazione con l'automazione e l'intelligenza artificiale in prima linea. Per cui direi che le attuali tendenze della formazione devono essere formazione professionale che sfrutta l'intelligenza artificiale, apprendimento agile e modelli di apprendimento flessibili e a distanza.